Eri per sempre! Ciao! Buona domenica a tutti! Bon dimanche alla fransè! Allora, la biblioteca possibile, libri acquistabili da bocca in galleria 2.0, La Pupa. E' il secchione! E' il secchione! Oggi hai sul tavolo un libro mastodontico, rilegato, in tessuto, O Luce! Di Giuseppe Ostuni! Allora, andiamo a vedere un attimino. Allora, fondata nel 1945 da Giuseppe Ostuni, O Luce, è nel campo dell'illuminazione, ti viene in mente qualcosa? La più antica azienda italiana di design e curativa! Cioè? Cioè? Come la mia bocca è la più antica! La più antica, per questo l'abbiamo ripresa, la più antica! Allora, noi siamo stati fondati nel 1775, 1775. Allora, un'eccellenza produttiva unica che traduce in forma un'appassionata ricerca estetica e tecnologica sulle potenzialità della Luce. Ma che modernità anche! Eh vedi, poi sono modelli classici! Che modernità! Allora, nel tempo Luce ha saputo costruire una collezione strutturata come un racconto ricco di multiforme, abitato da prodotti capaci di superare le modi per divenire icone del design italiano. Italiano, casa d'oggi, anche casa d'oggi. Tra l'altro, ovviamente, avendo comunque lavorato con i più grandi design, adesso raccontiamo un po'. Certo. Inizia il connubio con il mondo del design già nel 1951. Sì, 1951! E caspita! Con successo alla nona triennale, presentando in una sezione di illuminazione curata da Achille, Livio e Pier Giacomo Castiglioni. Castiglioni, Castiglioni, è grandioso! Guarda che colori, che modernità attuale! Esatto. Tra l'altro raggiunge subito un successo internazionale. Viene due lampade disegnate, realizzate da Oluce, vengono addirittura nominate al compasso d'oro. Caspita! Gli Oscar dell'architettura e del design. Caspita! Complimenti! Quindi, oltre ad Agnoli, con Ostuni lavoravano Forti, Arnaboldi, Monti, Minale, ma è alla fine degli anni 50 che raggiunge l'apice del successo con Gio e Gianni Colombo. No, e allora, ma di che cosa stiamo parlando? Ma guarda che modernità! Esatto, realizzando lampade che sono icone del design. Icone, certo, certo, ma non si direbbe, ma guarda che roba, non lo so io. Addirittura appunto dice che poi i fratelli Colombo cercavano un interlocutore in grado di reagire alle loro provocazioni. Lo troveranno in Ostuni e nascerà così la famosa lampada da tavolo 281, conosciuta come Acrilica. La lampada acrilica, un pittore. Allora, nel 1963 proseguono la collaborazione con Marco Zanuso e poi con Vico Magistretti. Magistretti? Esatto, ma ti rendi conto, una roba straordinaria. Guardate che roba, guardate che roba! E poi dalla famiglia Ostuni, la proprietà dell'azienda, passa alla famiglia Verderi. Verderi? Verderi, un po' come la libreria Bocca, non lo siamo a Bocca noi. Certo, certo, certo. Ci sono state cinque famiglie che l'hanno gestita, ma mantengono il nome della Bocca. Insomma, questo mastodontico libro, prova a sollevarlo dal peso di circa 5-6 kg. Mamma mia, quanto pesa! Forse pesa più di me, ragazzi, ma che meraviglia! Tantissime pagine, tantissimi progetti, tantissime pagine. Però va bene, guarda, 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 guarda che bello. Allora, bella gioia, chiudiamo con il jingle. Ma guarda, guarda che visi! Mamma mia che visi! Tra l'altro vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno per visitare la fiera d'arte di Milano, il Miart. Miart, miart. Sì, dalle ore 19, quindi ha corrette numerosi. E per chi non va al Miart, venite dalla libreria Bocca. Sì, certo, perché... Ho luce, ho luce, ho luce, e la vita dove c'è luce c'è vita. Allora, in onore di una signora che è venuta, faceva gli anni, da Palermo, è venuta fino qui per la libreria Bocca. Allora, e la siciliana di Palermo, è vittina crozza su, prano cantuni, e questa crozza mi misa parrari, e già mi rispondono i codrandoluri. Vittina crozza e nudo, mi rispondono. Ciao, libreria Bocca, ciao signora di Palermo. Oh, luce, perché dove c'è luce c'è vita. Una buona giornata a tutti. A tutti. Grazie.